Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della sportiva Cyclone Cross, la calzatura per il winter running, per la corsa invernale su neve di casa la sportiva, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare del peso. Taglia 42, queste Cyclone Cross pesano 350 grammi, nel mio 47 arriviamo a 430. È un peso abbastanza alto naturalmente per una scarpa da trail running, però vi assicuro che utilizzate non si sente, anche prendendola in mano non si sente, questo perché il materiale è tanto, avendo tutta la ghetta, quindi è ben distribuito su tutta la scarpa. Iniziamo come al solito a parlare della suola. Qua troviamo una suola Frixion, proprietaria di casa la sportiva, nella versione white, ovvero la suola più performante di casa Frixion. Come potete vedere troviamo un tassello decisamente alto, sono parecchi millimetri e soprattutto una tessalatura un po' particolare, ovvero i tasselli sono messi molto distanziati l'uno dagli altri. Questo vi assicuro che ci garantisce davvero tanto grip, soprattutto su quel terreno fangoso, su quel terreno ghiacciatino, su quel terreno anche neve abbastanza fresca. E' davvero Frixion white, ma in generale il Frixion ci ha sempre convinto dal punto di vista della performance, l'unica cosa è che essendo una suola molto morbida, per poterci garantire questo grip, si usurrà molto facilmente nel momento in cui andiamo a correre su terreni che non sono nevosi, quindi sentire il fondo valle, roccia, questa suola si consumerà molto facilmente. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Un'intersuola con un drop di 8 mm, molto simile alle Cyclone di cui siamo già stati abituati qualche anno fa. Un'intersuola diciamo morbido, comunque abbastanza morbido. Quando le calziamo non abbiamo la sensazione di una scarpa secca, però con queste scarpe naturalmente non c'entra a fare delle ultra. Cioè, finché facciamo 30-35 km, ancora ancora, ma sicuramente non di più. Soprattutto dell'intersuola mi è piaciuto lo stabilizer messo nella parte posteriore. Come mi era piaciuto sulle Cyclone tradizionali, qua l'ho apprezzato ancora di più, soprattutto nel momento in cui magari andiamo a correre su neve particolarmente bagnata o che non tiene tanto. Ci dà modo di non svirgolare troppo, ci dà modo di non perdere il controllo del nostro piede, nonostante magari siamo su un terreno che tenderebbe a farci svirgolare parecchio. Passiamo ora a parlare della parte superiore, quella dove cambiano veramente queste Cyclone e anche, passatemelo, la parte anche più interessante. Iniziamo dal puntale. Qui troviamo un puntale abbastanza morbido, non troppo rigido, però considerato che dovremmo usarle sulla neve non dovremmo prendere dentro chissà quali rocce o radici, quindi ci può stare. Tutta la parte davanti poi è inoltre rinforzata con una pasta in gomma, che anche qua ci garantisce sicuramente una gran durabilità e ci evita che si possano formare dei buchini sulla tomaia. A livello di tomaia poi, questa è idrorepellente, perché la membrana in Gore-Tex invece è messa nella carpa interna. Questo secondo me è un ma. È un ma perché io sono andato a usare questa calzatura per tante ore all'interno della neve e dopo un po' la neve inizia a entrare. Inizia a entrare ci bagniamo soprattutto più la caviglia che la scarpa in sé, comunque la scarpa in sé è all'interno al Gore-Tex. Però avrei preferito fosse stata messa la membrana in Gore-Tex sulla tomaia e sulla ghetta in generale, piuttosto che nella scarpa interna. A livello poi di tomaia, questa comunque a me non ha dato problemi. Ho utilizzato queste scarpe per più di 100 km e non presenta nessun tipo di abrasione. L'unica cosa, fate attenzione naturalmente se ci andate a correre con dei ramponcini, perché essendo comunque un tessuto in quel caso rischiamo di strapparla. Passiamo ora a parlare della parte del tallone. Un tallone non tanto strutturato, abbastanza morbido. Avrei preferito un pochino più di rigidità, però considerato che abbiamo l'inserto stabilizzatore inferiore, non prendiamo storte. Vi assicuro che con questa scarpa potete correre davvero tranquillamente senza problemi di storte. Soprattutto poi tutta la parte rigida si ferma, diciamo, a metà naturalmente della scarpa, perché qua finisce la scarpa interna e inizia tutta la parte della tomaia. In generale comunque, poi anche tutta la parte interna del collare, proprio della scarpa interna, non mi ha dato fastidio, non mi ha dato problemi. È ben imbottita, quindi funziona molto bene. Per quanto riguarda poi tutta la ghetta superiore, vabbè, il materiale è lo stesso di prima. Cosa che non ho apprezzato è che manca una parte qua in alto elastica. Cioè, se noi abbiamo una caviglia particolarmente sottile, praticamente da qua sopra potrebbe entrarci della neve. E anzi, vi assicuro che la neve entra. E io avrei preferito magari qua sopra, ma semplicemente un elastico. Cioè, proprio una cosa molto semplice, che però ci permettesse di chiudere la ghetta attorno alla nostra gamba. Cosa che purtroppo non c'è e personalmente ne sento abbastanza la mancanza. Sempre per quanto riguarda poi tutta la ghetta, cerniera che lavora bene, certificata IKK, quindi da questo punto di vista la cerniera lavora bene. Se proprio proprio un altro piccolo neo, la parte superiore dove si va a nascondere poi la cerniera, anche qua. Mi sembra veramente un pezzo di tessuto messo lì, poteva essere studiato meglio. Per quanto riguarda la chiusura, beh, naturalmente avete visto, qua abbiamo un BOA level 1, quindi si può solo stringere, non si può aprire, per aprile dovremo completamente aprire il BOA. E qua, anche qua, storgo un pochino il naso, perché un singolo BOA si sente che la calzata non è così precisa. Nel senso, nel momento in cui vogliamo andare magari a stringere un pochino sull'avampiede, non riusciamo. L'hanno cercato di metterci una pezza in casa della sportiva, nel senso che comunque, a livello di avampiede, è un pochino stretta, è un pochino più stretta rispetto a una calzatura normale. Quindi il piede dentro non si muove tanto. Però comunque, o ci sarebbe voluto un doppio BOA, diciamo la verità, con un doppio BOA sicuramente questa scarpa sarà andata decisamente meglio. Infine, per quanto riguarda la soletta interna, soletta Ortolite da 4 mm, io mi ci sono trovato bene, non ho avuto nessun problema. Classiche solette Ortolite, col quale ci siamo trovati bene anche su tanti altri modelli della sportiva. Arriviamo alle conclusioni per questa della sportiva Cyclone Cross. Ve le consiglio? Nì. Nel senso, secondo me è troppo alto il prezzo. Costano 250 euro, secondo me queste scarpe, se le trovate a 180, 200 euro massimo, allora avrebbe senso comprarle. Perché? Perché secondo me ci sono delle mancanze abbastanza gravi, partendo innanzitutto dalla parte in alto della ghetta, dove può entrare neve. È sicuramente una scarpa fatta bene, la qualità dei materiali si vede che è una scarpa alla sportiva. Poi a me piace sempre particolarmente i colori e tutto il design delle scarpe alla sportiva. Però in generale, davvero, secondo me questa scarpa costa un po' troppo. Per il prezzo, per quello che dà, il prezzo è un pochino alto. Altre scarpe da Winter Running da 250 euro offrono di più per essere a quel prezzo. Quindi aspettate che scendano un po' di prezzo e poi magari pensiamo a comprarle. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato il Zorro Interesaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!